Buongiorno a tutti Buongiorno 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 Sì. Sì. Sì, guarda. Sì, guarda. Che ti vuoi? Che ti vuoi? Che ti vuoi? Quando il posto scram, quando il posto è scramo, quando il posto è scramo, io ti gioco una volta. Voi, tu mi fai davvero scramo. Si, guarda. Sì, guarda. Sì, guarda. Posizione mantenida. Guarda la testa. Guarda la testa. Sì, guarda. Sì, guarda. Guarda la testa. Guarda la testa. Guarda la testa, guarda. Guarda, guarda. Guarda, guarda, guarda. Montez, mantez, mantez. Manté, manté. Mantén, manté, manté no perdón, no perdón. Guarda la postura. Il corpo vuole andare più veloce, no? Per la velocità bisogna più resistenza, ma il corpo vuole andare più veloce, no? Ci preoccupi sulla molta力, è possibile da tutto il processo, questo è quello che per farlo Precezziarsi la posizione e la posizione del nostro piniglio, del piano. Indicendo, spazio, controllo, bene, parallelo, 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 controlli, 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 controlli. E questo lo stesso. Perfecto, la stessa porta. E questo è il momento. Alla prossima. E questo? No. Sì. 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 D'accordo! Ha fatto il video? No! Sotto. Sotto! 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 È stato! Sotto! Sotto!